Ciao a tutti, sono Mattoni Pizzvoi e quest'oggi vi faccio vedere come si fa una buonissima pasta alla carbonara. Allora, come di consueto, iniziamo mettendo del sale e per cambiare dall'ultima volta metterò direttamente il sale in bocca e berrò l'acqua. Quindi, come di consueto, dato che questa volta non è pasta alla carbonara ma è spaghetti alla carbonara, ci mangiamo i spaghetti. Nel frattempo che facciamo cuocere la pasta, facciamo rosolare la pancetta all'interno dell'olio. Grazie a tutti. Noi abbiamo preferito scegliere della pancetta a fette piuttosto di quella a cubetti. Quindi all'interno ci mettiamo del pepe. E per terminare, dopo ci metteremo il grana per assoporire un uovo. Perché sto facendo questo? Noi, noi, noi. Noi, noi. 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 Noi.